Premere il tasto più oppure meno per selezionare il funzionamento del termostato. Solo riscaldamento invernale, simbolo fiamma. Solo condizionamento estivo, simbolo ghiaccio. Riscaldamento invernale e condizionamento estivo, entrambi i simboli. Avanzare con la programmazione premendo il tasto freccia a destra. Premere il tasto più oppure meno per selezionare l'unità di misura della temperatura, gradi Celsius oppure gradi Fahrenheit. Avanzare con la programmazione premendo il tasto freccia a destra. Premere il tasto più oppure meno per impostare la temperatura di protezione antigelo, simbolo OFF, oppure per escludere la protezione con l'indicazione OFF. Avanzare con la programmazione premendo il tasto freccia a destra. Premere il tasto più oppure meno per impostare la temperatura comfort, simbolo sole. Avanzare con la programmazione premendo il tasto freccia a destra. Premere il tasto più oppure meno per impostare la temperatura risparmio, simbolo luna. Avanzare con la programmazione premendo il tasto freccia a destra. Premere il tasto più oppure meno per impostare l'ora. Premere l'icona orologio per passare ai minuti e successivamente il tasto più oppure meno per impostarne il valore. Premere ancora l'icona orologio per passare al giorno della settimana e impostarne il valore da 1 a 7 premendo il tasto più oppure meno. Avanzare con la programmazione premendo il tasto freccia a destra. Impostare premendo il tasto più oppure meno il programma settimanale desiderato da P00 a P40. Ad un generico programma settimanale è associato il funzionamento comfort, risparmio oppure OFF secondo quanto visibile nella parte bassa del display per i diversi giorni della settimana, eventualmente con quest'ultimi visualizzati in modo alternato. Avanzare con la programmazione premendo il tasto freccia a destra. Premere il tasto MEM per confermare la memorizzazione delle impostazioni precedentemente selezionate. Il crono termostato si porta in modalità di funzionamento automatico.